Abbiamo seguito con grande attenzione ogni minuto del summit dell'ASEAN, ma non siamo affatto felici della dichiarazione finale. Esclude il punto per noi più importante, ossia il rilascio dei nostri leader, a partire da Aung San Suu Kyi. Al summit è stato invitato il capo dell'Aggiunta, il generale Min Aung Leng, responsabile del colpo di Stato. I militari hanno ucciso finora oltre 700 persone, ma l'ASEAN non ha invitato noi, il National Unity Government, che siamo espressione della volontà dei birmani alle ultime elezioni. Quindi, con questi presupposti, ogni tentativo di dialogo è destinato a fallire. Se siamo disponibili ad aprire un dialogo con l'Aggiunta militare, sì, si libererà i nostri leader e le migliaia di persone arrestate. Ma dovremo prima confrontarci con Aung San Suu Kyi e gli altri, perché da quando sono prigionieri non abbiamo più avuto modo di parlare con loro.